nananananananana non mi prendi non mi prendi questo lo vedremo ma dove è andato sorpresa la mia macchina fermo oh è piena di graffi oh lasciatemi ahah e io mi prendo il tuo skate eh Fabio ma fai qualcosa non mi fermate vedremo col telecomando scegliamo un po' la direzione ma non funziona ah che è sbadato l'antenna riportiamo un po' lo skate indietro ma che succede non segue più i miei comandi c'è solo un comando romeo ridà lo skate a gecko come è corsa a casa si sarà dimenticato di fare i compiti fabio fabio aiutami scusa gecko mi ero dimenticato di te grazie grazie fabio mai non mi dimentico che la mia macchina è rotta e gecko ho paura che questa sia da buttare ma se vieni nella mia officina te ne troviamo una nuova una macchina nuova e che sia veloce però vediamo chi arriva prima primo chi fa questo rumore altro che primo quest'altro si è pure fatto la pennichella ma non mi sono dimenticato che mi devi dare la macchina nuova ogni promessa è un debito gecko che ne diresti di questa betoniera verde mi piace il colore perché è verde come me ma non è veloce ah dai gecko scherzavo forse questa macchina o questa ma forse è questa quella che fa per te oh mi piacciono le macchine sportive ma nell'abitacolo dovrebbe fare un caldo beh possiamo togliere il tetto e farla diventare una cabriolet e che aspettiamo allora si è arrivato lui ma servono gli strumenti giusti per farlo oh dimenticavo gli occhiali oh adesso si che posso lavorare oh così mi piace certo che mi piace ma non mi piace il colore dei cerchioni beh ho questi qui neri siiii siiii beh ma per cambiare i copertoni ho bisogno di questo diciamo che è un crick speciale serve a sollevare la macchina ah ma dov'è l'attrezzo giusto per le vari cerchioni l'ho trovato io oh grazie gecko oh lo sai che sei molto utile gecko ma verresti a lavorare qui come mio aiutante guarda se avessi tempo volentieri ma sono così impegnato hop hop pronta ma non si muove ah cosa c'è che non va ma certo la benzina ma certo la benzina adesso puoi andare gecko grazie fabio oh ti sei dimenticato lo skate ah magari glielo darò nel prossimo video ciao